Abbiamo ripulito le mura, ieri ci siamo incontrati con il soprintendente di Belle Arti con cui abbiamo concordato alla tecnica. Questa mattina abbiamo iniziato a pulire, poi il soprintendente è venuto a vedere come procedeva al lavoro e visto che andava bene abbiamo proseguito e abbiamo finito. In che zona esattamente? Allora dall'inizio, diciamo dalla porta della Mandria fino verso il Pincio e poi c'era una scritta anche poco più giù, una scritta rossa, diciamo le mura romane dalla parte interna. Sarei te retribuiti per questo lavoro? Non lo so perché di solito il Comune quando sa più o meno qual è il bilancio, se c'è qualche avanzo riesce a darci qualcosa per i vari lavori che facciamo durante l'anno. Altrimenti ci sarebbe in balo l'altro discorso sulla cittadinanza attiva, solo che ancora non abbiamo avuto risposte, quindi potrebbe anche questo rientrare in quel tipo di operazione che noi abbiamo pensato per la pulizia del San Lazzaro, però ancora non è stato definito niente. Quindi ricordiamo per avere una sede, un appoggio in cambio? Sì, diciamo un baratto amministrativo invece dei soldi comuni a volte danno dei servizi oppure dei beni in uso.